buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi con un semplice clic ed attivando la campanellina non ce l'ho contaremi ragazzi ma figlio mio te lo dio ogni cuore in mano figlio mio ti mette l'allenatore sta cercando in tutti i modi di farti fare qualcosa ti mette sul 3 a 1 con il torino il torino in 10 entri dopo 5 minuti perdi una palla sanguinolenta centrocampo e ci fanno gol dopo 10 minuti hai l'occasione di riscattarti ad un metro e mezzo dalla porta spari quella scurreggina addosso al portiere roba da stacciarti il contratto contro l'Empoli entri Empoli in 10 23 minuti di nulla non è per avercela con te figlio mio ma l'allenatore cosa deve fare te la deve buttare lui in porta la palla dai di cosa ragioniamo e che cavolo e l'Inter ad oggi nonostante nonostante l'Inter abbia due attaccanti per cinque competizioni l'Inter ad oggi è l'unica concorrente seria ed accreditata del Napoli e questa attenzione è aberrante per le altre squadre che hanno fatto dei mercati faraonici rispetto a noi che abbiamo speso 40 euro per due giocatori e non giocano nemmeno la Roma ha speso 40 milioni solo per l'attaccante ha strapagato parametri zero tipo M sermoso che non giovano nemmeno dall'altro e ha tenuto di bala e ha un ingaggio importante non l'ha venduto e aveva anche delle richieste vogliamo parlare della Juventus ma di cosa ragioniamo? Vogliamo parlare della Juve di che si sta ragionando qui? Hanno speso 200 milioni questi vie per essere dodicesimi e hanno preso diversi giocatori che sono inferiori rispetto ai predecessori vedi Di Gregorio portiere mediore secondo me portiere modesto e contro di noi si è visto la difficoltà che ha nel parare i tiri direzionali verso il suo palo vedi gol di Mkhitaryan come dicevamo con Michele che saluto hanno una panchina molto ma molto più lunga della nostra hanno dei giocatori interessanti tipo Turam il fratello di Tikus che a me piace molto vedrete che purtroppo per noi questo giocatore poi dopo vi sentirete parlare tanto deve riscantare con se in saula Juventus attenzione e vogliono 47 milioni cioè quindi sta parlando di un ipotetico mercato di 250 milioni per far ridere vogliamo parlare poi del milan dei banditi rossoneri come si chiamano loro come tutti gli anni hanno speso non hanno incassato un euro ed hanno in panchina delle riserve molto più performanti delle nostre vogliamo parlare di parrucca del Napoli Napoli viene da uno scudetto stravinto di due anni fa con dei giocatori forti e bisogna riconoscerlo e nonostante ciò il Napoli ha investito 147 milioni di cosa ragioni in panchina giocatori come Neres che noi ce li sogniamo quella tipologia di giocatori lì in panchina ad avercelo Neres Neres da noi giocherebbe altro è panchina veniamo all'Inter che ha preso quattro giocatori di cui due a parametro zero che non sono stati nulla secondo qualcuno ma sia Zelischi Zelischi prende otto milioni e tre lordi per tre anni Zelischi è un'operazione da venticinque milioni più due milioni e mezzo al procuratore come è stato scritto due giorni fa Zelischi è un'operazione da circa ventotto milioni di euro vogliamo parlare di di quello che tosta i pistacchi poi e coglie i datteri vogliamo parlare di Taremi Taremi è un'operazione da venti e otti milioni otto milioni eh ai procuratori Pinto e Pastorello tre milioni e mezzo a lui sette lordi per tre ventuno Taremi è un'operazione da trenta milioni uno che non riesce a tirare in porta neanche contro una squadra di Serie B Svizzera perché contro lo Young Boys se non entra la tula quei due davanti non fanno nulla non riescono nemmeno a tirare in porta contro una squadra di Serie B Svizzera Palacios è vero che Inzaghi con i giovani non ha un gran feeling e che aspetta troppo tutto quello che ti pare ma quello l'è un ruolo molto particolare deve inserire il giocatore piano piano anche perché qualora fosse stato inserito e avesse fatto degli errori sarebbe subito stato etichettato come bidone di di continuando sulla difesa vogliamo parlare di Bisse che Bisse che può giocare ovunque tranne in difesa almeno se non con Darmian come come dico dall'anno scorso che gli copre le spalle ma Darmian visto i trentacinque anni suonati per fare una partita buona ormai ne deve riposare tre minimo due barra tre l'unico difensore che ha l'internazionale football club di Milano per cinque competizioni l'unico difensore che sa marcare l'unico difensore che sa stare sull'uomo è Acerbi a trentasette anni viene da un'operazione di bubalgia ed è fermo per infortuni a centrocampo in parte titolare di cui Mkhitaryan anche lui trentacinque primaveri eh ha avuto un po' di difficoltà di tenuta fisica nella prima parte sembra si stia riprendendo ma è un giocatore di trentacinque anni l'età la avanza per tutti capito Fratesi grande giocatore noi le nostre variabili offensive dalla panchina non possiamo trovarle in Taremi Correa e Arnatovic ma le possiamo trovare in Zelischi e in Fratesi come ho detto ieri perché i numeri parlano chiaro guarda i gol che ha fatto Fratesi e guarda i gol che hanno fatto gli altri attaccanti e guarda anche i minuti giocati eh perché non pensare Fratesi abbia giocato molto di più degli attaccanti quindi centrocampo è quello è forte ma c'è Mkhitaryan che incomincia a patire l'età Fratesi va rivisto soprattutto in fase di ripiegamento ma in fase offensiva è comunque un giocatore fortissimo e meno male abbiamo Fratesi perché davanti se non segnano quei due quegli altri se tirano o o buttano la palla in autostrada o rompono il finestrino della punto nel parcheggio non abbiamo nessuno oltre la tula noi Zialischi Zialischi è una buonissima alternativa a livello tattico ma Zialischi viene da dei problemi fisici da due anni non giocherà mai novanta minuti e lo vedrete perché non riesce a tenere i novanta minuti è una buonissima alternativa ma per un tempo cinquanta sessanta minuti anche quando vai in nazionale dove è il numero dieci del capitano gioa cinquanta sessanta massimo ha giocato settanta minuti fino ad oggi tra l'altro Zialischi ha delle caratteristiche tecniche importanti ma allo stesso tempo ha delle caratteristiche che non sono ben integrate nel gruppo ovvero sia non sa fare da doppia fase e nei ripiegamenti lo abbiamo visto anche nelle ultime tre partite dove girano i video eh non ricorre l'uomo eh non 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 è in fase in fase difensiva non è al posto giusto al momento giusto Zialischi per come la vedo io io come lo impiegherei impiegherei mezz'ora quaranta minuti dietro le punte è lì che dove secondo me lui potrebbe dare eh il meglio purtroppo all'Inter anche lui l'ha detto vorrei giocare più avanti eh lo lo dice giuse all'Inter serve lì si sta impegnando comunque i piedi c'è lì a buoni a meno è uno che ha piedi buoni e non i piedi a banana però ragazzi Zialischi è un giocatore che a aprile duemilaventicinque a trentun anni Cialanoglu a febbraio a trentun anni si comincia a andare troppo su con le tanca a centro a centro campo scusate Mkhitaryan a trentacinque anni e bisogna ringiovanire lascialo perdere i cinesi ma nonostante ciò caro parrucca ricordati una cosa ti stiamo venendo a prendere parrucca perché siamo gli unici in grado di venirti a prendere ciao inter grazie a tutti